Volvo, quando si parla di Volvo si parla di Fassina, Svezia Car in via Kulischoff, sono in compagnia di Marco Carletti. Ciao Marco, eccoci qua, perché devi fare una preview di un evento che ci sarà nel corso del mese di febbraio. Esatto, il 24-25 febbraio, un venerdì e un sabato, faremo un evento in collaborazione con Volvo Alt Italia qui nella nostra sede di via Kulischoff 6. Quindi, di cosa si parlerà? Di elettrico, ma finalmente a 360 gradi, cioè l'invito è a tutte le persone che stanno pensando al mondo dell'elettrico, non dico magari a comprare la macchina ora, ma a pensare, a iniziare a pensare a quello che potrà essere l'acquisto futuro. Si parlerà quindi di cos'è una vettura elettrica, come si carica una vettura elettrica, se è il test drive, una spiegazione da tecnici di Volvo Car Italia qui presenti in presa la nostra sede e a disponibili a rispondere a qualsiasi tipo di domanda. Quindi è un evento molto interessante, non è specificatamente per venderti l'elettrico oggi, per parlarti solo dell'elettrico Volvo, ovviamente si parlerà di quello, ma si parlerà proprio dell'elettrico a 360 gradi. Bisogna prenotarsi, sono qualche decina di posti disponibili, sul nostro sito ci sarà un form dove registrarsi ed è un evento ovviamente libero a tutte le persone che vogliono avere delle informazioni complete e esaustive sul mondo dell'elettrico. Perfetto, ricorda la data Marco in chiusura? 24-25 febbraio. 24-25, due giorni, per cui sul sito sviziacar.it si troverà il form da compilare per essere autorizzati ad accedere a questa giornata. Molto esclusiva, ma sicuramente anche molto interessante, perché si fa preparazione, si fa cultura. Esatto, un po' di informazione corretta. Va bene, Marco grazie mille, ci vediamo presto invece per parlare di Volvo, usato, aziendale e tutto il resto. Certo, grazie mille. Ciao, ciao.